Sì, oggi conosceremo un grande pianista russo che si chiama Tchaikovsky Cercheremo di capire le sue musiche famose Certo, andiamo Ok Lo sai cane babbone, dov'è nato Tchaikovsky? Lui è nato di San Pierbugo, 6 novembre 1893 E' stato un compositore russo del periodo tardo romantico Le cui composizioni sono tra le più note del repertorio classico Io sono cane Tchaikovsky Nonostante il successo popolare La sua vita su costellata di eventi che lo condussero alla depressione E ha una visione fatalista dell'esistenza Certo, è stato un grande musicista dopo con grande successo Ma dopo si è malato Di depressione è diventato triste Non è vero Questo troppo, purtroppo ha avuto una vita difficile Certo, sono veramente, sono veramente spiacente Lo sai cane Yosha, è l'opera più famosa di Tchaikovsky Si chiama Il lago di Cini Dovresti vedere come splendida come le ballerine che ballano Quanto è bella tutta la musica di Tchaikovsky Senti Senti Sì, molto bella Il lago di Cini C'è qua Il lago di Cini